Vi faccio vedere un gentleman della Long Wolf Knife che mi è arrivato da poco. È il modello in collaborazione con Bob Loveless, il City Knife, ovvero il primo gentleman che ha disegnato Bob Loveless. È contenuto in un foderino in pelle, abbastanza bello. Questo modello che ho io è con la manicatura Snakewood. Il coltello è molto ben fatto. La lama è di tipo Futship, quindi col tagliante in avanti. Non c'è blocco lama, c'è soltanto il sistema a pompa posteriore. Come potete vedere il design è di Loveless. Molto bello, abbastanza pratico. Un bel gentleman elegante.